Necessità di completare l'organico con più di un innesto priorità, a quanto pare però riservata alle uscite. Ovvio, in quest'ultimo caso, il riferimento ai calciatori attualmente sotto contratto, che sembrano non avere il giusto entusiasmo per proseguire l'avventura in biancazzurro. Comincia oggi una settimana determinante per la composizione dell'organico per la Fidelis. Sul tavolo delle trattative in uscita, intanto c'è posto per Tulli, si valuta il prestito alla fermana, di piazza da registrare un interessamento della Torres al Cibia e Messina, che piacerebbero rispettivamente ad Alessandria e Molfetta. Queste partenze darebbero più respiro ovviamente al mercato della Fidelis, perché parliamo di giocatori importanti su cui l'Andria ha investito l'anno scorso, quindi è chiaro che anche da un punto di vista economico per la società sono degli impegni notevoli, quindi venendo meno risolvendo, trasferendo questi giocatori altrove, è chiaro che ci sarebbe più respiro. Sono giocatori che abbiamo valutato fino all'ultimo momento, stiamo ragionando con chi li ha chiesti e quindi tutte le società che sono interessate a questi calciatori sono comunque degli interlocutori per quanto ci riguarda. La Fidelis è un cantiere aperto, l'Andria ha bisogno di innesti per dare qualità e sostanza all'attuale Rosa. La priorità riguarda il portiere, al momento non ci sono estremi difensori sotto contratto. C'è in prova Mattia Bucosse che però non ha convinto nella mica vuole contro il Barletta, ha salutato il ritiro di San Giovanni Rotondo Piero Burigana, mentre si è aggregato al gruppo il 99 Alberto Sabini, ex Albino Leffe, l'obiettivo principale per la porta. Resta comunque Gianluca Saro, classe 2000, ex Crotone. È un ruolo talmente delicato che ci sono delle valutazioni in corso e è chiaro che va fatta una valutazione da due punti di vista. Uno è quello meramente tecnico perché è chiaro che serve un portiere affidabile per la categoria, all'altro c'è la questione anche più meramente economica che va valutata. I nomi che hai detto sono comunque tutti al vaglio e ci auguriamo di chiudere quanto prima anche perché abbiamo necessità di mettere una pedina importante. Il ritiro della Fidelis a San Giovanni Rotondo si concluderà nel fine settimana dopo altre due amichevoli. La prima giovedì contro il Nardò alle ore 17.30, la seconda invece sabato con il Brindisi alle 16.30.